Credo che non sia civile un paese in cui non ci sia più la garanzia della inviolabilità di ciò che si dice al telefono. Non è più vita quella di alzare il telefono e di poter parlare liberamente con il rischio che queste telefonate siano intercettate e di vederle apparire, anche se non hanno nessun risvolto penale, sulla stampa o su internet il giorno dopo. E credo che su questo tutti non possano che concordare.